Buongiorno amici, vedete questi sono i miei grani, ho fatto questa prova e li ho trasferiti dentro la nostra piccola grotticella dove la temperatura è costante, intorno ai 18 gradi in questo periodo, questo perché le temperature si sono alzate e dentro casa non va bene perché hanno superato i 25 gradi, come vedete stanno in ottima salute, quindi sperimento ancora un pochino anche se una parte li ho già congelati e sicuramente poi come aumentano ancora di più le temperature congelerò anche questi riprendo poi a settembre. Tutte queste informazioni le potete trovare sul sito kefiritalia.it, io lo seguo e quindi sono una neofita per il kefir, tutte le informazioni le ho prese su questo sito. Bene io qui ho messo il telo perché lo sto passando un pochino, mio marito lo preferisce un pochino più denso, ma io lo bevo anche per intero senza togliere il siero altrimenti vanno via un pochino di sostanze. L'unico fastidio è scendere sotto nella grotticella, poi riportarlo su e riportarlo di nuovo giù. Vedete com'è bello? Bello cremoso, questo perché uso il latte intero e se mettete quello scremato viene leggermente più liquido. Bene amici, buona colazione, ciao a tutti, un abbraccio!